Benvenuti anche dallo studio di Bremen. Oggi riferiamo di una notizia incoraggiante dalla Slovacchia. Essa ha infatti dichiarato unico il matrimonio. Il Parlamento slovacco vuole proteggere particolarmente il matrimonio tra uomo e donna. Due terzi dei deputati si è espressa a favore di un cambiamento costituzionale. Ora nella Costituzione c'è scritto «Il matrimonio è un'unione unica tra uomo e donna». Già in precedenza delle organizzazioni per i diritti dell'uomo hanno criticato la decisione. Bravo a questo Parlamento che ha il coraggio di opporsi alla detta abuizzazione della società. Anche nella nostra quotidianità abbiamo bisogno di tali decisioni coraggiose che si impongono al movimento dominante. Tali notizie dimostrano che non è ancora troppo tardi per una svolta. Partecipi anche lei. Ora passo la linea allo studio di Hannover.